Qual è l'unico continente rimasto intatto non toccato dal coronavirus? L'unico continente è l'Antartide. La missione italiana alla Mario Zucchelli, la base in Antartide dell'Enea, è terminata sabato scorso e tutti i nostri connazionali stanno rientrando in Italia. Sono attualmente in viaggio su un cargo coreano e arriveranno in Nuova Zelanda il 9 di aprile. Non si sa bene ancora come rientreranno in Italia. Alessandro Politori che lavora spesso per me, l'avete visto spesso sui miei video, ha fatto parte della 35esima missione dell'Enea in Antartide. È partito il 28 di gennaio e sta rientrando insieme al resto delle persone che fanno parte della missione. Anche il Washington Post ha dedicato a loro un articolo, un articolo in particolare sul fatto che in Antartide il coronavirus non è arrivato. Non è arrivato perché ovviamente tra i ghiacci perenni ci sono state poche persone e è un punto difficile da raggiungere, molto difficile da raggiungere, un punto estremo e quindi si è mantenuto in tonso, come direbbe Paolo Buonolis. Alessandro si è occupato del nostro lavoro all'interno della base Mario Zucchelli e ha realizzato delle controparelli in cartongesso e ovviamente il lavoro di tinteggiatura. Appena rientrerà con Alessandro faremo dei video sulla sua esperienza in Antartide e scriverò un post sul sito www.sulopittura.it. Se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, è importante restare sempre aggiornati e restare sempre in contatto con noi. Ciao, a presto.